Una doccia fredda ma anche una buona notizia. Hans Klug, direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che i viaggi internazionali dovrebbero continuare a essere evitati. La maggior parte di noi è ancora suscettibile al virus e non è ancora vaccinata, ma, sottolinea, i vaccini autorizzati funzionano contro le varianti. Consentitemi di sottolineare che tutte le varianti del virus Covid-19 possono essere controllate dallo stesso modo con misure sanitarie e sociali e che tutte le varianti del virus Covid-19 che sono emerse finora rispondono ai vaccini approvati disponibili.